Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castella di Cisterna hanno dato esecuzione in ordinanza di custodia cautelare e messa dal Tribunale di Napoli a carico di 33 soggetti considerati contigui al clan denominato Sautto Ciccarelli, operante sul comune di Caevano e d'orta di Atella, poiché gravemente iniziati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delle modalità e finalità mafiose e detenzioni illegali di sostanze stupefacenti. L'attività in argomento è frutto di articolata indagine condotta con l'ausilio di strumenti intercettivi, metodi tradizionali e propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia nel periodo dal 2016 al 2020, nel corso della quale sono stati emessi altri due provvedimenti cautelari eseguiti nelle date del 12 novembre 2019 e 10 maggio 2021 per un totale complessivo di 105 misure. L'attività investigativa ha permesso di documentare l'operatività del sodalizio criminale e di relativo controllo delle attività illecite in Caevano, con specifico riferimento a Rione Popolare Parco Verde, nonché la gestione del commercio illegale di sostanza stupefacente, assicurata tramite la gestione diretta di alcune piazze di spaccio e la fornitura di altre piazze della zona, condotte da strutture criminali autonome ma sottoposte al controllo di quelle egemone. L'indagine ha consentito di delineare nello stesso Parco Verde una vera e propria costellazione di punti vendita di droghe di diversa natura e qualità, attiva a tutti i giorni dell'anno e a tutte le ore del giorno e della notte, considerata nel complesso come una delle piazze di spaccio a cielo aperto più grandi d'Europa e di rinvenire a sottoporre a sequestro ingenti quantità di stupefacente di vario genere. Indicativa è la presenza tra gli arrestati di donne, alcune delle quali ricoprivano posizioni verticistiche all'interno della consorteria criminale, ovvero erano a capo delle singole piazze di spaccio. Il provvedimento eseguito è una misura disposta in sedi di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari di essa, sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Grazie a tutti.